eccoci qua ciao studio e ciao a tutti io mi trovo a zapponeta un paese vicino san giovanni rotondo e sono in compagnia dell'assistente spirituale dell'associazione figli amati parroco della chiesa di san michele arcangelo don andrea lauriola grazie don andrea grazie a te maria ciao ben trovato e ben trovato ben trovato perché da tanto che non ci vediamo sì infatti allora l'occasione ce l'abbiamo vogliamo puntare l'attenzione su quelle famiglie che portano sulle spalle delle croci importanti c'è chi perde figli ed è stata messa su questa associazione dal titolo dal nome figli amati io parto subito da qui perché si chiama così ecco questo nome è stato pensato proprio perché un'associazione che si fa prossima alle famiglie condivide insomma la maggior parte dei membri condividono questo dolore appunto la perdita di un figlio e questo permette alle persone di in qualche modo di trovare una chiave di senso al proprio dolore si chiama appunto figli amati proprio per questo ma in realtà alla fine figli amati diventa un termine ambiguo ma in senso molto bello perché significa sia il riferimento ai figli amati che sono già in cielo sia il fatto che anche le persone che soffrono la perdita di una persona cara poi non necessariamente figli ci sono molte vedove o persone che hanno perso un fratello una sorella sono si riconoscono figli amati da dio e quindi sono in grado di esprimere nella preghiera questa consapevolezza di essere amati nonostante il dolore che provano e quindi sostenuti da questa consapevolezza poi si aiutano reciprocamente e si sostengono nel cammino di fede nel cammino della vita voleva ha voluto che venisse messa su questa associazione questo questa comunità di figli amati il nostro monsignor michele castoro chi ha preceduto l'attuale monsignor padre franco moscone lui ci ha colpito allora perché ne abbiamo già parlato il disse ci ha colpito quello che lui disse insomma esistono nel vocabolario parole che definiscono le vedove appunto chi perde un marito che perde una moglie chi perde un padre una madre orfano no però non c'è una parola che definisca un genitore un padre una madre nel momento in cui perde un figlio è una cosa strana questa si è una cosa strana contro natura se vogliamo ovvio perché spesso lo si sottolinea il fatto che non sia naturale che dei genitori vedano morire i figli è più facile e più normale che i figli accompagnino i genitori al termine della loro vita per questo non c'è un termine che li definisce ma proprio per questo è un'esperienza che va accompagnata meglio possibile e a proposito di questo hai nominato monsignor castoro che ha accompagnato e ha come dire favorito la nascita ufficiale dell'associazione ma è vero ed è anche bello ricordarlo oggi che in questi giorni ricorre il ventennale di questa esperienza l'associazione è nata ufficialmente meno di dieci anni fa ma questa esperienza nasce vent'anni fa proprio nel mese di marzo nel cimitero di manfredonia spontaneamente con delle persone che decidono di farsi vicino a chi soffre la perdita di un figlio e pregano insieme all'inizio è nata proprio così in modo molto semplice condividere la preghiera pregare con chi fa anche fatica a pregare e poi questa preghiera crescendo ha aiutato a donare una luce nuova e ci sono poi ora tante persone che hanno non dico messo da parte ma in qualche modo hanno saputo dare un senso al loro dolore e con quel nuovo senso aiutano altre persone e quindi la vita della comunità di questa associazione cresce diventa una famiglia che poi si è sviluppata adesso c'è un gruppo qui a zapponeta a san giovanni ci sono alcune persone a monte sant'angelo noi la prima volta abbiamo conosciuto anche alcune delle mamme e ovviamente si faceva riferimento anche ai papà che di solito sono un po più nascoste un po più dietro le quinte però in realtà riguarda tutti le famiglie colpite c'è questo bisogno di relazione tra di loro ma c'è questo bisogno di relazione attraverso la preghiera con maria e con con dio ci si riunisce ci si ritrova per recitare insieme un rosario per partecipare a una santa messa all'ecoaristia quali sono le caratteristiche per essere parte di questa associazione che ovviamente non si sceglie se vogliamo ma si è quasi sia proprio un bisogno profondo di farne parte nel momento in cui capita questo sì sì ecco quello che dicevi anna maria è vero sicuramente riguarda tutti ci sono sia adulti che giovani ci sono mariti e mogli padri e madri questo sì e appunto non ci sono delle caratteristiche specifiche perché poi ci sono anche persone che non hanno subito un lutto in famiglia ma sentono il bisogno di di condividere questa esperienza e di farsi vicini è quello che è importante è avere il desiderio di custodire la propria fede e di chiedere la grazia a dio di comprendere in qualche modo in una certa misura il progetto suo di salvezza in questo modo si impara ad allargare l'orizzonte e una cosa che chiediamo spesso nella preghiera sempre è quello di avere la consapevolezza che i nostri cari sono beati vivono nella serenità dell'amore di dio e in questo chiediamo al signore dunque di rasserenarci e sottolineavi due elementi importanti la preghiera è nata nel cimitero e quindi pregando il rosario ma poi anche importante la vita sacramentale la celebrazione dell'eucarestia e quindi questo diventa una cosa importante sono poi due cardini della vita spirituale ovviamente poi ci sono altre modalità altre preghiere però il rosario è quella realtà che ci stringe forte a maria e ci aiuta ad invocare meglio il signore l'eucarestia è ciò che ci nutre e rafforza la nostra vita di fede e diciamolo sono gli unici punti fermi fissi anche in questo periodo di lockdown insomma a partire da un anno fa la preghiera e la partecipazione alla santa messa all'inizio anche in modalità così a distanza se vogliamo adesso siamo ritornati alle nostre abitudini ma la preghiera è una costante fissa per tutti e quindi per fortuna ecco c'è questa possibilità di creare questa relazione con dio e con maria io voglio chiederti un'altra cosa anche perché insomma me la sono pure segnata è bella l'immagine se pensiamo a queste famiglie toccate da una perdita una perdita forte possono essere amici fratelli figli anche sorelle giustamente fratelli un'immagine forte è quella di della mamma di maria sotto la croce loro rappresentano un po tutte maria sotto la croce si direi quasi che maria vive condivide questo questo dolore e quindi maria sotto la croce è il segno più forte che possiamo riconoscere per dare valore a questa sofferenza ecco il paradosso di maria è che quando gesù viene crocifisso lei smette in qualche modo di essere madre di gesù perché gesù la chiama donna e le affida a giovanni e dice ecco tuo figlio e in quel momento maria diventa madre dell'umanità ecco dunque il dolore di maria la trasforma in qualcosa di più grande in questo senso è proprio in questo periodo abbiamo avuto modo anche di meditare sulla figura di maria sotto la croce e poi la quaresima il tempo propizio anche per non solo adorare la croce percorrere la via crucis e quindi meditare sul mistero di cristo crocifisso e anche maria dunque diventa un segno di questo di questo miracolo di questa grazia e dunque uno dei dei punti insomma delle cose che come associazione cerchiamo di fare è quello non di radunare le persone che soffrono perché tutte si richiudano insieme nel proprio dolore si piangano addosso anzi possano comprendere questo mistero che in maria si rivela maria la sofferente che diventa madre di tutta l'umanità e quindi queste persone che magari perdono una persona cara in particolare un figlio ma possono generare amore per tutta l'umanità è bellissima questa immagine che tu ci hai dato donato e ti ringraziamo per questo e ovviamente se non siamo stati colpiti da una perdita grave insomma ce lo auguriamo tutti possiamo essere vicini con la preghiera anche a queste famiglie che soffrono certo grazie don Andrea grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori grazie a tutti